Tutto quello che vede è stato infestato, posseduto o è stato usato in qualche rito particolare. Non sono giocattoli. È più sicuro tenere queste cose qui dentro piuttosto che là fuori. A volte è meglio tenere il genio nella lampada. I tuoi genitori non tengono oggetti paurosi in giro? Li teniamo chiusi in una stanza. Così siamo al sicuro. In realtà è meglio che non ci entri nessuno. Che hai fatto per finire là dentro? Mi piace la tua bambola. Che cosa hai fatto? L'ho lasciata uscire. Chi? Annabelle. Mi dispiace. Che altro hai toccato? Ho toccato tutto. Posso giocare con Annabelle? Forse hai sbagliato casa. Non c'è nessuna Annabelle qui. Sì che c'è. A volte ho delle visioni. Come mia mamma ha delle visioni. La bambola è come un faro per altri spiriti. Mi piace la tua bambola. Che c'è, Bis coordination. Come uno di noi. Questa è arrivata a rawi. Si viene riuscita personalizzato.